Questo è un progetto cruciale dell'Italia-Egyptiana. Abbiamo supportato l'initiative dell'Egypto e del ministro Abdel Nour per convenire il comitato di GTI, che portano insieme tutti i principali fondamentali di questo progetto. Questo è un progetto complesso, ma è importante di rilassare la capacità di exportazione dell'Egypto nel settore agroindustriale e per creare tutte le condizioni per exportare prodotti egyptici allo mercato europeo, secondo i standardi europei. Stiamo lavorando su tutti i aspetti per fare queste cose possibili. Abbiamo un'implementazione Unido, che giocherà un ruolo cruciale. Abbiamo credito che questo sarà successo. E questo sarà il flaggio dell'Italia-Egyptiana. Grazie. 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 Grazie.